Ciao! 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 Come sta? È abbastanza bene. Molto bene. E tu? Così così. Sono stato per il copriano di mamma Carolina. Anche io. Anche a me. Perdiamo gli otto passi. Allora andiamo. Sì, andiamo. Allora. Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Sporco denaro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!